tedesco e arabo sono simili vero doc? dipende questo è arabo buona mi lascerò instagram lol doc ma noi parliamo l'arabo qui? sono inglese ok matti adesso funce ah c'è un quarto che si è unito a noi non so perché però vabbè un quarto figlio di s... dipende ah ho preso il palo in faccia dai ui ui ah no 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 stupido martello stupido che non veniamo buttati fuori? no ah ok troppo 11 se qualificiamo 4 punti gg bella bella woman si e non lo mi senti è vero ma bro top scoperta no è stato sbattuto in tutti i modi ok sono passato aia palla di merda dai mai non riesco a passare no 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 eh eh sono passato più 39 siamo qui inti doc dovremmo salire di quella sifica adesso si non riesco a saltare però dai roba di merda sei tu questo qua blu e quello a metà si che non riesco a saltare e non so non devi saltare vai dritto vai salta eh ci classifichiamo in teoria no si secondo te ce la facciamo vincere questa partita ci sono due mogas il doc grattamiao no doc questa è bellissima doc doc vabbè lui è nel suo mondo non risponde mi senti si ah eccoti e adesso mi senti no si no cinque eh ok ne ho fatti un po' doc 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 no non ce la faccio a passare in quello d'oro no lei è vivo doc che sento che non parla no doc vabbè lasciamolo nel suo mondo di minecraft che merda sta roba no no senti si adesso si tu continui a crashare oh mi senti si si ma sei scemo questo non sente me questo è stupido non sente me mi senti si adesso mi devi sentire per forza voglio non ti sente vai discord ce la fai non ce la fai oh si mi senti io si ti sento si no a posto si andiamo tu ti continui a buggare vabbè non è andata male dai ne abbiamo fatto un po' non è facile non siamo facciamo ancora una squad e poi cambiamo no io che ti piace pensa che c'ho da schifare le robe andiamo ma no ma è che bisogna arrivare più o meno tutti insieme perché tipo quello di prima lì io non so neanche che roba era non ci sono riuscito boh giochiamo è qui pronto basta i cotti vaffanbro vaffanbro è da parlare ragazzi poi vi farò vedere il cablaggio che ho messo nella postazione da gaming che adesso ha soltanto la spina della corrente che va ad attaccare il wifi basta credibile il resto è nascosto quindi tipo tipo i monitor si autoalimentano no sono stati fulminati quindi hanno l'energia infinita che c'è che c'è forse non funziona così no non la metto a chat vocale perché dopo faccio casino poi l'ho già provata e non mi funzionava quindi rimaniamo così si du 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 vai al centro ora devi sapere vai dobbiamo classificarci nooo ok non si può salire qui sopra vero? no 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 mi ha preso la palla no io sto andando io sto per andare io sto andando per eh la classificare vabbè ma ditelo che mi volete male mi volete tirare sotto nooo e dai però che mi butta giù il gioco ok ho preso il martello mi sono spinto un po' più avanti sì anche io ho la palla ce la possiamo ancora fare eh io son passato tu sei passato no non ce la facciamo manca il nostro compagno Mattia insomma questo è stupido guardalo guardalo che prende le palle in faccia come Amanda salta pirla vabbè ma questo ma questo ma questo non sa giocare no facciamo anche Mattia vabbè facciamole singolo che sono più carine per questo perché almeno uno può andare avanti a giocare possiamo cantare la sigla di Dacobo che io ho la tua mano nei miei jeans ma questa non è la sigla di Dacobo sì è quella questo è la sigla di Dacobo tu 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 ah io 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 tu 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 lui 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 l'oro 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 l le palle prendo anzi le palle più che altro simulator amanda simulator posso rischiar me la rischio al centro eh io la rischio sempre al centro porca sono andato in cina a trovare il doc io non sono cinese sì che sei cinese porca no è tutto più spesso essere no sì sì sono arrivato tipo oltre la palla lanciandomi come non so cosa ok poi si lancia come non lo sa neanche lui cos'è io mi qualifico io pure io pure qualificato squalificato andiamo a vedere chi è questo mattia sì vai matti è niente esploso andiamo se qualificato tu e matti però non devi esplodere andando lì sotto è esploso di nuovo è andato lì sotto mattia sta facendo si sta facendo fare delle cromo madonna questo non è questo questo non è il simulacro non trovo più matti ma si è qualificato non lo so no ma sai chi è che esplode molte volte all'anno ma sai che è che esplode molte volte all'anno ma sai che la merca usa le camera matti non devi esplodere andando giù e vabbè poverino ha perso non è più tra noi ma no bro c'è uno accanto a me che si chiama guardalo l'hai visto no ah sì perfect match no la morte no ragazzi mancano soltanto quattro follower al gol io non io non voglio portarlo a roblox ve lo dico già sarà una roba troppo brutta e ci dispiace matti non ti voglio girare sulle palle sulle palle che girano mi gira anche a lui ma così è magari con roblox fa tipo 10 di spettatori se fai 10 di spettatori la porti più spesso ma anche no scusa mi fa venire il cancro qua c'è l'uva io c'è con te destro te ne sei cagato in mano si ehm oddio io vado dove vanno gli altri alla fine anzi doc venga con me trolliamo la gente prima che il coso scompaia cosa esce allora almeno cos'è perchè ciliegia io mi fermo qua poi salto si caduto nessuno no 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 io quasi dove sei qua vieni qua dai che io già non riesco a qualificarmi di mio please dai di grave no io vado qua in fondo ok si ho capito matti l'ho intuito l'hai scritto 14 volte ah ma mattia jackson e mattia jack sparrow son giusto toc e jack sparrow e vabbè però le uso per un breve periodo quella roba lì te la fico nel sedere cioè scusa te dici ste battute e io cioè io ti dovrei bannare per questo sparrow jack clinton franklin io sparrow jack e abbraccio oh jack franklin clinton hit parade no no quella lì è quella con le robe viola che girano che sono bruttissime ah no io ho problemi in cima ho anche detto in cima no 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 ah ti grabbo papà il pacco lì che già sei deficiente di tuo poi no vabbè bi spiego hai capito come funziona mettiamoci mettiamoci anche ok Non ha l'idea questo Passare qua No, 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 scivolo giù Ok, oh, arrivo primo Eh, signori, arrivo primo Oh, signore, io qui ci rimango Oh, ce la fa lei a passare, sì Sì, sì 15 E 16 Miglior 50%, vabbè, dai, accettiamo Chemi Potrebbe essere una semifinale? Oh Potrebbe Io vado a 69 fps su questo Mi piace Ok, va bene Tipto, no, ragazzi, questo qua mi ha fatto cadere giù 20 volte Anche se non è ultra difficile Ma io vado avanti Tanto al primo ci si può buttare subito Tipo al primo io mi butto Ok, l'ho beccata però, eh L'ho beccata subito Qua Ok, ok Ok, doc Eh, ora adesso la sinistra A destra Guardate, io non ho tutto il tempo del tonno, eh Ok Come ci arriviamo là Di qua Ma questo c'ha tipo le hack, guarda, sa dove andare No No, no, bastardo, non mi spingere giù Allora Non mi spingere Ah Scusa Scusa Non lo faccio più Ok Per forza uno dei due Questa 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 Non mi spingere Bastian Muori cactus di merda Dai Ok Ok, per forza avanti No Ok Vai, 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 vai Corri, 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 corri Qualificato Settimo Settimo Ah Che complicata La situa Ma sì Sì Questi sono Vastiani Perché tetto non li buttati giù Siamo in dieci Potrebbe essere una finale Signori Signore Una finalina La facciamo Dai Fall Guys Facci fare una bella finale Guarda Ise L'hai capita Eh Ma Puta Che cacchio è No No Roloff No Questa è la più difficile Final run No Ma allora Il gioco è tipo Un dito nel sedere Più di una mano Nel sedere Io direi Anche tutto Proprio tutto il braccio Aspetta Ma se io rimango fermo qua Che cosa succede? Oh no Guarda Mi sono rotto Ok Oh l'inizio è semplice Ecco Sono già caduto Sei abbastanza Sono un gufo Sono un gufo E poi E io questa non l'ho mai fatta Nemmeno io Non l'ho mai giocata È la prima volta Ti può saltare qua Oh No No Lasci Mi stare Bastante Devo sapere la logica Perché a me Grappa No A te No Ma vabbè Però per dire Ok Ah No 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 Ma allora Avete la mamma Toc Questo gioco Mi piace Eh Ho fatto pure due medaglie d'oro Cosa Nati Ma qui ci vuole Una cosa Veloce Rapita E in dolore Ultima partita A parte quella Che non è rapida In dolore Sai cos'altro È rapida In dolore Cos'è che è caduto Dall'altra parte Dio No Mario Ferretto No doc Per favore Eh ragazzi Mettete pronta Su Su Ragazzi Ragazzi Dai lunghi Cazzo Manca Mattia Night Fiver 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 Non c'entra in cazzo Doc Il doc È su Fiver E vende i suoi Le sue cose 69 dollari Sì Io ho preso il punto Ceco Ceco point No 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 Mi sono tipo Sbagato Rotto X Ha detto Esatto Matti Esatto Io mi qualifico Tu Io se questo Cosatka Di ponte Si abbassa Si Salta di là Salta di là Salta Che brava persona Matti è vivo No No Sei rimasto tu E se no Tu sei morto Doc Di che cosa stava parlando Sei morto No Vedrai che sono vivo Eh Io sono proprio vivo Ma come Io sono vivo Ma sono morto Non lo so Nemmeno io Ma ma sei vivo No E vabbè Sai come sei Tu sei un trolley Da parcheggio Non era da patinaggio No Ti vieni parcheggiato Negli hotel E ti parcheggio La sorella La sorella Va bene Ok Passo nelle palle Uia Mammia What is my destiny Dragon Ball Perché oggi Scello con Dragon Ball Non lo chiedere Perché Dragon Ball Le balle di Dragon Ball No che poi soprattutto È Dragon Ball Ok Le sfere del draco Le sfere del draco Di draco Forse passo per primo What is your destiny Doc passo di nuovo per primo in questo match Si gode Uh Io per terzo Ah no Guarda 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 questo clown Tiere Cas vuol dire cactus No è l'abbreviazione Giusto No Jump Club No Jump Club Te ne sei accorto dopo 5 anni Te ne sei accorto dopo 5 anni Che c'era Jump Club Io Dopo questa Stavo guardando la chat Cavoli tuoi Perché io chat Vabbiamo Siamo Si What is my destiny Dragon Ball Dragon Ball Dragon le palle Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Dragon 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 Ball No ma questa è cattiva Io mi grabbo il dinosauro Sono morto forse Si mi sa di solo E che ho avuto la sfortuna Che mi hanno trattenuto E sai quando c'è la palla verde Si Che è Proprio sotto la palla La palla rossa Quello che mi è capitato adesso A parte che è rosa Tu sei dal tonico completo Potrei Giusto Se io Se io Per lo guardi Gli dovinotti Guardi cosa Cosa guardi Personaggio di me Guardo la mia cosa Ti infilo nel cestino Ti lascio lì Per 47 anni Grazie Ecco come si tratta Una persona No ma di nuovo tipto Perché In punta di pedi In punta di pedi I pedi Immagini si imbarca Fall Guys E c'è la finale Subito all'inizio Oh mio dio Fall Mountain in 40 O tipo Hexagon in 60 Bello Anche Fall Mountain in 40 Barco di Allora Questi se ne sono Allora Tanti posso dire la verità Sono ancora vivo io Oh Ciccio sono ancora vivo Ma non è vero Sei morto Sono quello lì Che grabba L'orzacchiotto Ci sarebbe la freccetta Non sono stupido Ehi Magari Non la vedi La Vai giù Ho buttato giù Con la testa lì Dai Trovate la strada No Grava Falla andare avanti Ok 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 Via 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 E perché entra Isaac Newton Newton Ma Newton È come Newtown Non ho già tempo Con Bryce Allora Ti dico subito Eh Scusa Isaac Che se l'hai risucchiato Ok Che se lo sono risucchiati No 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 E vabbè Sono caduto di due strati Tre strati Ok Ok Andiamo avanti No Struzzo Cadi Ah Questo Ti taglio le palle Sono scelto Probabilmente La strada più difficile Però No No Sono caduto all'ultimo Non ci credo No Guarda che tu Proverò ogni stratetena O circa dell'altra stanna Appedato uno circa 6 Proverò circa 6 Proverò ogni stratetena O circa 6